buongiorno sono francesca d'amato sono una dragologa cioè studio i draghi mi piace veramente tanto avere a che fare con i draghi e sono qui per parlarvi del biscione dei biscotti cioè di quel drago che è stato protagonista di storie per secoli tutte storie che variano dalla biscia al mostro gigantesco capace di mangiare persone e che sono state fatte circolare ad arte per convincere la gente ad avere fiducia nella famiglia dei biscotti quello che vi farò vedere oggi sono le leggende quindi le storie che si sono succedute nel corso dei secoli perché biscotti non ne raccontarono solamente una le alternarono in base alle loro convenienze politiche del momento ed ecco quindi che vi parlerò del biscione le fonti da cui ho preso tutto questo sono varie quindi quello che dirò non me lo sono inventato lo hanno studiato degli storici del calibro di pastorò e potete vedere qui alcuni dei libri da cui ho preso ma cominciamo a vedere lo stemma dei biscotti il blasone si descrive partendo dallo scudo dal colore di sfondo e in questo caso ci dice che è d'argento l'argento è uno dei due metalli l'altro è l'oro che fanno parte dei colori a disposizione di chi volesse dipingere e illustrare uno stemma araldico oltre ai metalli l'oro e l'argento ci sono gli smalti i colori il rosso il porpore l'azzurro il verde il nero e questi colori sono scelti apposta per avere un'alta differenza tra di loro per poter essere messi vicini e per poter avere quindi un forte contrasto questo contrasto serviva a riconoscere facilmente lo schello lo stemma quando veniva visto da lontano quindi sia sul campo di battaglia sia durante i tornei queste regole sono poi rimaste perché sono delle regole di accostamento cromatico che ci serviranno in seguito e sono rimaste in uso per secoli proprio perché sono funzionali perché servono a far riconoscere meglio le figure quindi sfondo colorato d'argento decorato alla biscia quindi con un serpente e qui abbiamo un serpente tipico con la testa di cane è una bestia araldica antichissima la più antica divinità con testa di cane di cui sia notizia è Simurg è una dea persiana benevola quindi favorevole all'umanità e veniva usata nelle bandiere da guerra alcune di queste erano delle maniche a vento quindi dei lunghi tubi di stoffa con una testa di cane questa potrebbe essere la vera origine del blasone di visconti i visconti però non lo sapevano e quindi presero semplicemente un'immagine che derivava dalle incisioni dai bassorilievi da quello che loro potevano vedere di antichità romana perché i romani a loro volta avevano copiato questo tipo di immagine dall'originale persiano quindi grande biscia con testa di cane d'azzurro quindi colorata d'azzurro ondeggiante quindi che si muove come delle onde che forma col suo corpo come delle onde spostandosi a destra a sinistra intorno ad un palo il palo è l'asse verticale in basso abbiamo la coda in alto abbiamo la testa su cui si vede dipinta la biscia ci dice anche che la biscia è ingollante un uomo di carnagione ingollante vuol dire che lo prende in bocca ma che lo prende in bocca non per mangiarlo gli animali quando mangiano un'altra preda la ingoiano partendo dalla testa in modo che gambe e braccia entrino partendo dall'attaccatura quindi dalle spalle e dalle anche e procedendo poi verso le estremità questo è il modo più facile di ingollare un animale per evitare che si dimeni e ovviamente anche per schiacciargli la testa subito per evitare danni all'apparato digerente e anche per mettere prima fine alle sofferenze della preda il fatto che il biscione di bisconti invece abbia in bocca una figura che entra dai piedi lo fa ci fa capire che non lo sta mangiando ma che questa figura quindi non è in vista della sua morte ma è nascente questa è una caratteristica molto importante perché all'inizio il drago dei dei bisconti non era un mostro mangiatore di uomini come ad esempio la tarasca che infatti ingolla la sua preda partendo dalla testa e lascia sporgere solamente le gambe ma è un drago che fa nascere che trasporta senza ferire una figura umana dicevamo l'uomo è di carnagione questa scritta di carnagione in termini araldici ci dice che il colore della pelle con cui va disegnata questa figura umana è il color pelle il color pelle non è un colore degli smalti visti prima il rosso il porporo all'azzurro il verde il nero è un colore diverso e autorizza l'uso di questo colore al di là delle regole di accostamento cromatico quindi si poteva disegnare un uomo di carnagione anche sullo sfondo argento bianco e anche vicino ad altri colori quindi questa dicitura di carnagione è quella che poi ha fatto scaturire il l'interpretazione che la persona dentro alla bocca del drago fosse in realtà una persona di carnagione come la intendiamo noi oggi cioè di carnagione sottinteso scura e quindi fosse un saraceno e questo vedremo nelle prossime leggende quindi biscia ondeggiante in palo colorata d'azzurro qui la vediamo senza denti il problema dei denti del biscione è che in alcuni stemmi ci sono i denti in altri non ci sono e questo è legato alle vicende politiche della famiglia visconti che spesso veniva scomunicata i rapporti tra i visconti e il papato sono stati molto tesi e per parecchio tempo e quando i visconti erano in disgrazia e ricevevano la scomunica dovevano disegnare il proprio stemma privo delle sue armi tede a offendere quindi senza denti quando venivano scomunicate per esempio famiglie che avevano uno stemma araldico come un'aquila o un leone queste venivano rappresentate senza artigli e il leone senza artigli era il cucciolo nato morto e proprio in araldica si definisce nato morto la bestia senza denti della famiglia che in quel momento era scomunicata quindi se vedete senza denti un animale o senza artigli sappiate che in quel momento la famiglia che portava quella insegna era scomunicata era in disgrazia ed era quindi costretta a manifestare la propria condizione togliendo alla propria besta araldica i suoi attributi offensivi vediamo quindi da dove fanno partire i visconti le loro storie la prima che incrociamo è questa i visconti raccontano di aver ottenuto lo stemma del del drago vincendolo durante le crociate ad un saraceno allora quale sia la crociata è dubbio qualcuno dice la prima quella di guffredo di buglione del 1099 altri dicono la seconda comunque sia il problema è che ai tempi delle crociate le famiglie e i guerrieri non avevano ancora uno scudo fisso uno scudo fisso vuol dire che la stessa persona poteva andare in battaglia con scudi diversi e che lo stessa figura rappresentata sullo scudo poteva appartenere a due persone diverse questo creava un po di confusione lo possiamo sapere perché nella razza di bayeo che è del 1080 le arme sono ancora confuse lo stesso cavaliere indicato con la scritta ricamata col suo nome sopra di lui in diversi punti della razzo porta insegna diverse e ci vorranno cinque o sei generazioni perché l'uso dei blasoni si fissi e quindi ci sia un'attribuzione univoca tra il personaggio e la sua insegna araldica e questo succede per le casate e per le famiglie europee il nemico contro cui combattono i crociati quindi le armate musulmani hanno un ritardo di oltre 200 anni per arrivare allo stesso punto quindi alcuni storici prinete maiere in primis sostengono che i musulmani adottarono le arme quindi adottarono le insegne 200 anni dopo gli europei questo ci dice che alla prima ma anche alla seconda crociata nessun visconti poteva battere un musulmano perché i musulmani a quel tempo non usavano le discudi con le insegne era una cosa che facevano solamente i crociati quindi è una cosa impossibile vediamo però cosa dice ho sbagliato direzione cosa dice bonvesin della riva bonvesin della riva era un un doctor grammatica quindi uno studioso era del terzo ordine degli umiliati e nel 1288 scrive che la famiglia visconti riceve offerto dal comune di milano questo stemma il vessillo con la biscia dipinta in azzurro che inghiotte un saraceno rosso ecco qui il saraceno non è di carnagione ma è dipinto di un altro dei colori ammissibili il rosso e quindi proprio per rispettare le regole dei contrasti cromatici e dice bonvesin della riva una cosa interessante che questo stemma viene offerto dal comune di milano ci dice quindi che prima dell'insediamento della famiglia visconti milano era un libero comune noi sappiamo che l'insediamento dei visconti a milano è proprio il segno del passaggio dai comuni alle signorie il comune di milano non offrì proprio come dire spontaneamente l'insegna e il titolo quindi ai visconti ma ci furono anni di lotte addirittura all'inizio la città di milano era ostile ai visconti tutto cominciò nel 1262 a quel tempo il papa urbano quarto nomina ottone visconti nato nel 1207 a invorio quindi siamo all'inizio del 1200 arcivescovo di milano e lo fa ignorando il privilegio dei milanesi di scegliersi il proprio arcivescovo ai milanesi questa cosa di ricevere un'imposizione da roma e di ricevere come vescovo urmercivescovo una persona loro non gradita non va giù per niente e ovviamente si ribellano a questa cosa si ribellano e a capo della rivolta ci sono i torriani le lotte tra torriani e visconti andranno avanti per parecchi anni fino alla vittoria dei visconti questa vittoria avviene nel 1281 quindi sono passati parecchi anni in ci furono varie battaglie una di queste avaprio d'adda avvenne il giorno di san dionigi ricordatevi san dionigi perché san dionigi tornerà in una delle prossime leggende che vedremo e quindi il il succo della storia è che ottone alla fine si insedia fa nominare suo nipote Matteo capitano del popolo e questa funzione di capitano del popolo che prima era una funzione temporanea diventa poi una carica fissa ed ereditaria quindi si passa dalla libertà della gente di eleggersi i propri rappresentanti sia per quanto riguarda le attività civili sia per quelle religiose ad una trasmissione ereditaria di queste cariche il quindi il passaggio da comuni a signorie viene raccontato successivamente come una libera scelta del con della gente del comune di milano quando in realtà fu la cosa un po imposta e un pochino più complicata ma veniamo a vedere come le leggende raccontate dai visconti raccontano questa storia e ho sbagliato di nuovo direzione eccoci ok uberto e il drago qui siamo qualche anno dopo 1330 e abbiamo la cronaca di galvano fiamma galvano fiamma ci racconta che un visconti questa volta uberto libera la città di milano da un problema un drago un drago che con il suo alito rendeva pestifera quindi faceva ammalare la popolazione e come fa uberto a liberare la città da questo drago innanzitutto gli va incontro e lo affronta personalmente quindi non manda degli emissari non manda dei soldati ma prende personalmente l'impegno di liberare la città da questo drago per prima cosa lo afferra per la barba i serpenti non hanno barba non hanno peli però per far capire alla gente il sesso di questa bestia gli è stato attribuito un carattere tipicamente maschile nella specie umana che è la barba la barba ci fa capire che il drago è maschio e che quindi è cattivo e possente perché nella specie umana i maschi sono più grandi e più combattivi e quindi anche nell'animale quello che porta le caratteristiche maschili è il più grande e il più combattivo il fatto che in natura questo non sia vero e che esistano diverse specie dove è la femmina ad essere più aggressiva e più grande del maschio era un problema che al tempo non si erano posti quindi quando vedete rappresentato un drago con la barba è perché l'illustratore voleva farci sapere senza ombra di dubbio che quello era un animale di sesso maschile uberto bisconti quindi per prima cosa afferra il drago per la barba va con la sua mano vicino alla bocca del drago che è l'origine di tutti i mali quindi non ha paura di avvicinare una parte del suo corpo al punto più pericoloso quello da cui il drago poi morde della bestia da sconfiggere con l'altra mano l'ammazza con la scure quindi risolve il problema con un atto tipicamente maschile risolve il problema ammazzando il problema uccidendo il drago vediamo cosa succede nella seconda versione di questo scontro tra uberto e il drago siamo nel 1592 e lo storico questa volta è il morigia ci dice che il fatto avviene davanti alla chiesa di san dionigi vi ricordate che la battaglia di san di avvenuta nel giorno di san dionigi era quella di di cui dicevamo in cui i visconti riescono a liberarsi dei torriani ecco quel fatto avvenuto in quel giorno diventa adesso nel racconto leggendario un posto quindi dove c'è la chiesa di san dionigi lì uberto il fondatore della famiglia visconti uccide il drago il drago era pericoloso e il morigia ci dice che uccideva centinaia di persone e questo ci dà la misura di quanto il visconti sia un salvatore salva la vita evita centinaia di morti il morigia ci dice anche un'altra cosa che uberto non combatte armato di ferro quanto di fortezza d'animo di destrezza e di ingegno queste qualità sono quelle che contraddistinguono un buon leader e lo fanno lo rendono capace di provvedere al suoi sottoposti più di quanto potrebbe fare un leader semplicemente forte la forza può averla anche un villico può averla un bruto può averla uno stupido uberto visconti non era uno stupido lui combinava univa la forza del braccio alla forza della mente quindi era particolarmente adatto a guidare il popolo perché era sia forte che intelligente questa è una caratteristica piuttosto importante per i leader ed ecco il biscione come viene rappresentato quindi con la barba che potete vedere al di sotto del suo mento le lunghe orecchie di cane che sono quelle che derivano dall'antichità i denti questa volta ce li ha e se vedete lungo il corpo ci sono anche tutti questi pallini tutti questi tondi questi tondi sono la manifestazione grafica delle pustole della peste la gente nell'antichità sapeva benissimo che la peste bubonica si manifestava con dei buboni e l'associare il bubone al drago era il modo grafico di far capire che quel drago era in grado di portare la peste che era un'arma biologica che era in grado di appestare l'aria e di far ammalare le persone e che quindi uccidendo il drago si risolveva a monte alla radice il problema della salute pubblica della peste e quindi era una cosa di cui essere grati il fatto che poi la peste fosse trasportata dal la malaria o altre malattie venissero dalla puntura di alcuni insetti e specialmente per la malaria alcune delle bonifiche eliminando le zanzare vettrici di questa malattia avessero risolto il problema era una cosa che al tempo non era chiara per la peste ovviamente non erano le zanzare erano i morsi delle pulci nei letti e la questione di igiene pubblica era anche questa una cosa sconosciuta quindi la colpa di tutte le malattie era dei draghi vediamo cosa succede però sempre nel morigia ma come cambia il suo racconto alcuni anni dopo lo stesso autore che prima ci aveva detto che il drago era causa di alcune centinaia di morti adesso aumenta ad alcune migliaia e questo è divertente perché ci fa vedere come anche lo stesso autore quando deve raccontare nuovamente la stessa storia sia prono all'ingigantimento un po come i pescatori che ogni volta che raccontano quanto era grande il pesce pescato lo fanno un pochino più grosso anche questo drago da alcune centinaia di vittime passa ad alcune migliaia i fatti sono retrodatati al 400 nel 400 la famiglia visconti non era neanche esistente le prime attestazioni sono di centinaia di anni dopo ma questo retrodatare l'origine delle leggende le nasconde adeguatamente nelle nebbie del tempo e impedisce alla gente un controllo dei fatti molte leggende anche quelle dei santi vengono spostate indietro nel tempo proprio per mettere al sicuro dalla dalle prove e l'autorità in questo modo non poteva essere messa in discussione abbiamo in questo scudo la razza viscontea i raggi del sole e il biscione dotato di spine e finalmente dotato della corona la corona è il segno che potete vedere rappresentato nello stemma dei visconti solamente dopo che i visconti si comprarono il titolo nobiliare la famiglia visconti non è nobile d'origine lo diventa quando a suon di fiorini si comprano il titolo di duchi e lo vediamo qui si comprano il titolo di duchi nel 1395 da venceslao del lussemburgo ora venceslao del lussemburgo era detto il pigro ed era detto il pigro perché preferiva andare a caccia mangiare bere e spendere soldi piuttosto che occuparsi delle faccende che un sovrano avrebbe dovuto come dire avere all'ordine del giorno e come priorità nella sua agenda il giovane e pigro venceslao amava spendere i soldi non era capace di procurarsene e quindi faceva cassa vendendo titoli nobiliari nel 1388 per esempio vende il titolo di duca del lussemburgo il suo a suo cugino jobs di moravia e suo cugino che poi col supporto di altri nobili a un certo punto lo prende anche in ostaggio per tre mesi viene liberato dal fratello insomma non aveva ottimi rapporti con questo suo cugino però pur di far cassa a lui come ad altri vende titoli nobiliari questo andazzo non è molto gradito a tutti gli altri nobili del regno e che si vedono circondare a rivisti e non gradiscono l'operato del di venceslao venceslao alla fine viene costretto dai suoi pari cioè non dai suoi pari perché lui teoricamente aveva il titolo più alto di tutti ma comunque da tutte le persone sensate nel suo tempo a non poter più decidere nulla senza l'approvazione di un consiglio venceslao viene commissariato in pratica e a dire il vero non fu mai neanche veramente incoronato imperatore del sacro romano impero perché mentre lui era in vita c'era il problema dello scisma d'occidente cioè c'erano due papi e quindi era anche formalmente difficile sceglierne uno da invitare alla cerimonia quindi si rimandò la cosa e quindi venceslao ufficialmente non fu mai incoronato riuscì comunque a vendere il titolo di duchi ai ai visconti insieme alla vendita del titolo i visconti ricevettero anche l'obbligo di inquartare il loro stemma con l'aquila imperiale l'aquila nera su sfondo dorato che si vede è proprio quella dell'impero per curiosità il primo a usare l'aquila fu il barbarossa il barbarossa che gucciò alla città di milano era quasi distruggendola radendola al suolo quindi e tra parentesi il primo a inchinarsi al barbarossa a riconoscerne la vittoria fu proprio un visconti ottone visconti ma questa sono le come dire le curiosità della storia che i visconti preferirono non rendere pubbliche quello di cui invece volevano parlare era l'antichità nobile della loro famiglia i visconti dicevano di venire da angera e anche questa è una balla la proprietà della rocca di angera era della mensa arcivescovile e i visconti la conquistarono più tardi e dissero di venire da angera perché era un castello un pochino più bello un pochino più famoso più più glamour rispetto ai borghi da cui ufficialmente da cui veramente veniva la città abbiamo i documenti di scomunica dell'arcivescovo cassone della torre che scomunica matteo visconti nel 1314 e tra i capi d'accusa c'è anche quello di aver occupato illegalmente la rocca di angera che era della della chiesa quindi i visconti cosa fanno dicono di venire da angera e secondo pastorolo lo storico francese angera è l'origine dello stemma dei visconti perché c'è un'assonanza quindi una similitudine di suono tra la parola angera e la parola latina anguis che vuol dire serpente da cui anche la nostra anguilla la radice la stessa pastorolo ci dice che lo stemma dei visconti è un'arma parlante cioè uno stemma che racconta col suono della bestia della dell'immagine rappresentata qual è l'origine della famiglia che porta quello scudo lo scudo con l'anguis è quello della famiglia di angera perché anguis e angera hanno un suono simile questo lo sappiamo noi adesso i visconti ovviamente raccontano una storia un pochino più abbellita e raccontano questa raccontano di essere discendenti di Enea Enea è quello al centro ha i lati ha il padre anchise e il figlioletto Ascanio e qui lo vediamo che presenta la sua famiglia e la sua storia alla regina di Done abbiamo quindi un'origine divina e questa origine divina viene raccontata in pompa magna qui questa è la genealogia dei visconti raccontata nell'elogio funebre di Giangaleazzo siamo in uno scritto del 1403 e i visconti in questo documento dicono di avere origine divine divine ma neanche divine nel senso cattolico divine nel senso classico dicono di discendere da anchise e dal suo matrimonio niente popo di meno signori signori rullo di tamburi con venere nel disegno in alto che spero riusciate a vedere si vede anchise che sposa venere infilandole l'anello al dito quindi anchise un uomo che sottomette perché il matrimonio non era paritario addirittura una dea sottomette venere dal loro matrimonio nasce Enea dal da Enea discende Ascanio Ascanio padre di anglo anglo fondatore rullo di tamburi di angliera la città di angiera ed ecco che i visconti fanno risalire la propria stirpe direttamente all'antichità classica quindi celebrano il mito della propria famiglia vantando discendenze divine signori sono stati dei grandi hanno manifestato questa cosa anche con gli affreschi che si possono vedere alla rocca di angiera e hanno fatto raccontare questa storia in lungo in largo vantandosene spudoratamente ecco qui abbiamo ancora nel 1700 che il carlo autore nel ritratto di milano ci racconta questa storia Carlo Torre mescola un pochino tutte le leggende che si erano succedute nel corso dei secoli e ci racconta che in San Dionigi posto ma che noi sappiamo essere data di battaglia fu ucciso da uberto visconti un drago e sappiamo le storie di questo drago della sua barba e dalla tenacia e dall'arguzia e dall'intelligenza amistica a forza di uberto visconti che questo drago sconfitto serve a validare la sua attitudine al comando e sappiamo anche che i visconti ancora nel 1700 erano ritenuti discendenti del ceppo d'Enea troiano e complimenti ai visconti perché l'hanno raccontata veramente bene quindi con questo vi ringrazio troverete molte più leggende perché ve ne sono ancora delle altre ma direi che per oggi ne abbiamo raccontate abbastanza sia sulla radica viscontea quindi sul significato dei colori sul perché i visconti scelsero il blu o scelsero un serpente o ancora di più su da dove veniva veramente il serpente dei visconti sul mio sito gnomi.org vi invito a godervi la festa medievale di Volpiano il De Bello Canepiciano e vi invito a venirvi a trovare al mio stand sarò troverete sulla mappa anche la locazione esatta sarò lì a vostra disposizione nel caso aveste ancora qualche domanda sia sui visconti sia sui draghi sono veramente molto appassionata di draghi quindi se avete problemi di draghi venitemi a trovare sarò assolutamente felice di parlare con voi grazie mille arrivederci